E si manca davvero poco all'inizio della sfida, si attende solamente l'ok da parte dei due arbitri e poi comincerà l'Inx Latina, Lolo Caffè Napoli, semaforo verde sulla sfida Il pallone però Anas per Carligno, sono a tiro con il sinistro Dopo andare con il sinistro, serve Wanchi, in mezzo per Anas con il tacco Ragiona su il numero 10, poi alza questa traiettoria, facile per Lolo Caffè Napoli con Jelovcic che inquadra la porta, trova l'angolino basso, poi Edu la conclusione, il palo, colpito da Edu, poi Wanchi, la stersata in aria, Wanchi Wanchi, il pareggio del Latina Una fase di studio da parte dei due squadre con Duarte che adesso prova il piazzato Occhio a mancia, pensa al tiro, va alla conclusione De Luca, ancora Duarte, errore sottoporta da parte del Latina e poi Cesaroni, sigla il gol del 2-1, l'erroraccio Jelovcic, pallone in mezzo, tutto, troppo facile per De Luca che trova il gol del 3-1 Attenzione a Carlignos, con il sinistro, e il pallone sembra essere entrato non secondo gli arbitri, di parte Duarte sembrava essere entrato il tiro di Carlignos Occhio a Jelovcic, allarga il pallone Occhio a De Luca, con il sinistro, sbaglia però serve Wanchi, che si gira con il destro Si torna a giocare con Mancia, tocca per Rubio Poi ancora Napoli con Rubio, con il destro Chinchio, non riesce stavolta Del fine settimana, forse dell'anno Ora Carlignos, per Edu Attenzione, Edu Per Salas Finisce qui il primo tempo Links Latina 1, Lolo Caffè, Napoli 4 Antonito Anche lui di nuovo in campo, perde il pallone Cesaroni con il sinistro E' qui Giù il cappello E' pericolosamente per il Latina Edu, con il destro Antonito lo ferma In scivolata, poi casca Arriva Salas, occhio a Salas Il pallonetto 6-1 L'Ocicero Poi Duarte, attenzione a ripartenza La parte di Cesaroni con Salas Cesaroni per Salas Che non sbaglia 7-1 Bene alle spalle della difesa Intanto, attenzione, rigore penso Va Duarte E la parata da parte di Chinchio Attenzione adesso Il pallone recuperato da Latina Per Carlignos Allarga nella zona di Anas Poi Cesaroni E arriva L'ottavo gol Della Lolo Caffè Napoli Cesaroni stavolta Ha inquadrato la porta Dalla distanza Avrebbe affrontato questa partita Sicuramente con un altro spirito Intanto Edu Con il destro Trova il gol Il secondo Meritato direi Per Battistoni Allarga nella zona di Carlignos Vede Anas Può andare alla conclusione Mette in mezzo per Edu Che fulmina Bello Buono Terzo gol Attenzione Adesso a Battistoni Che ruba un tempo All'avversario Poi va alla conclusione Ora Bello Buono Ci mette le mani Poi la conclusione Ancora una volta Sempre sua Di Cesaroni Che trova Il nono gol Finisce qui La sfida Lolo Caffè Napoli Batte 9-3 Links Latina Qui al Pala Bianchini Lolo Caffè Napoli Lolo Caffè Napoli